Friuli Venezia Giulia in zona bianca a Trieste il gusto della libertà sta tutto nel ritrovato caffè al banco in una città che si risveglia dopo la pandemia. Iniziano a riempirsi anche i tavoli all'interno di ristoranti, pizzerie e buffet e da stasera addio al coprifuoco e ripartono tante attività tra cui le piscine. Covid emigranti, esplode il focolaio di coronavirus al Nazareno di Gorizia, intanto i rintracci aumentano, ieri 40 a Trieste e oggi 36 a Udine. Il vallone maledetto, l'ennesima tragedia costata la vita al 43enne triestino Leonardo Romano riapre il tema della sicurezza e dei guardrail atti a proteggere i motociclisti. Mobilità e barriere architettoniche, la 5 Stelle Ricchetti attacca il comune invece di occuparsi di cose serie, pensano alla ruota per Cricetti in Portovecchio. Trieste in prima pagina sul National Geographic, nello speciale le bellezze della città, lo sviluppo del porto e le ombre cinesi sul futuro. Come sarà la nuova pallacanestro Trieste dopo l'addio di Dal Masson, Ciani Coach, Fernandez leader e poi stasera al Caffè dello Sport, Mario Ghiacci. Buonasera e bentrovati alla nuova edizione del telegiornale di Telequattro. Il Friuli Venezia Giulia oggi è tornato in zona bianca. A Trieste in particolare la ritrovata libertà è simboleggiata innanzitutto dal ritorno al bancone del bar per consumare l'amato caffè. E allora sentiamo il servizio d'apertura di Gianluca Paladin. Primo giorno a Trieste in zona bianca in tutto il Friuli Venezia Giulia e noi siamo scesi in città per sentire i pareri dei cittadini. Siamo in zona bianca, faccio quasi quello che facevo prima. Chi è che non vuole essere libero? Non so se mi sono spiegato. La libertà è il fondamento della vita. Si può ritornare pian piano alla vita normale. L'avete preso il caffè al banco in questo primo giorno di zona bianca? Come la sa? Sì, è vero. Solo perché c'è il zona bianca. Quanti caffè al banco ha fatto finora? Beh, abbastanza questa mattina, insomma. Quasi tutti al banco. Più del solito, sicuramente. La gente era tutti contenti. La gente aveva voglia di fermarsi con calma a bere il caffè al banco e naturalmente l'effetto è stato senz'altro positivo. Ma comunque la gente, lo stesso stamattina, quando veniva a prendere il caffè, andava fuori per l'abitudine di uscire, no? È più buona la colazione in zona bianca? Sicuramente sì. Comunque adesso che è in zona bianca siamo più tranquilli. Ma è una bella cosa questa. Molto bella. In mezzo, un po' di luce, perlomeno. Dobbiamo tornare a vivere la nostra libertà perché è necessario. Quello che accadrà stasera, quando le persone non avranno più la fretta e furia di dover andare in giro tenendo conto dell'orario. Non c'è più il coprifuoco. Beh, sì, anche questo può essere un vantaggio, sì. Ma la cosa importante è sentirsi un po' più liberi. Io insegno, quindi siamo stati chiusi in casa, lontani dai ragazzi ed è stato bruttissimo. Soltanto adesso ci stiamo finalmente ritrovando e questo è molto bello. Siamo in zona bianca? Era da un po' di tempo che mancava questa situazione? Sì, sì, mancava. E vabbè, bisognava adeguarsi comunque. Finalmente. Finalmente forse ci siamo arrivati. La speranza è che continui così. E da oggi i ristoranti, i buffet, le pizzerie possono accogliere i clienti anche all'interno. Se ne va addio al coprifuoco. Noi intanto siamo stati a pranzo a vedere la situazione. Finalmente siamo arrivati a zona bianca. L'aspettavamo da tanto tempo. Specialmente dopo queste giorni di bioggia che servire solo all'esterno era molto complicato. Tutta la soddisfazione di un ristoratore nell'accogliere il primo giorno di zona bianca a Trieste. Nella soleggiata giornata sono pochi coloro che hanno scelto di pranzare al chiuso. Ineluttabilmente ha vinto l'opzione all'aperto. I ristoratori però sono soddisfatti di poter garantire un servizio completo. Siamo in questa zona bianca, godiamocela. Speriamo di restare così. Noi siamo super felici. Adesso si può dire che si riparte. Finalmente possiamo accogliere anche i nostri clienti e amici all'interno e non preoccuparci solo delle temperature e delle condizioni climatiche. Abbiamo finalmente un piano B che ci permette di gestire meglio la clientela, i riservati. Sono tante comunque le regole da rispettare. Disporre i tavoli ad almeno un metodo di distanza l'uno dall'altro, accogliere i clienti in base allo spazio disponibile e garantire i prodotti per il lavaggio delle mani, oltre che praticare la sanificazione costante su ogni tavolo e superficie. Inoltre è fortemente raccomandata la prenotazione del tavolo e gli avventori dovranno tenere la mascherina in ogni caso in cui non siano seduti a mangiare. Una cosa è certa, se piove chi opera soprattutto al chiuso tira un sospiro di sollievo. Assolutamente, anche per la tranquillità degli ospiti, la nostra tranquillità. In caso di pioggia, che oggi speriamo non avvenga, riusciremo a accogliere anche l'interno sempre con le dovute cautele. E dare la possibilità a tutti i prenotati di trovare un posto dove sedersi, avendo ovviamente l'interno e il locale su due piani, è molto più gestibile adesso. Nel momento che piove sicuramente siamo più tranquilli perché abbiamo lavorato un mese in condizioni disagiate. L'assenza del coprifuoco invece aiuta i clienti sulla scelta di andare a mangiare fuori casa e i ristoratori lavorano di più, senza guardare in continuazione l'orologio. Anche perché la gente è più rilassata, c'è il tempo disponibile e anche per noi è una cosa molto più rilassata. Noi alle 10.40 dovevamo portare i conti al tavolo e chiedere di andare via entro le 11. Non ci permette di innanzitutto lavorare di più perché riusciamo a coprire due fasce orare per la cena ed è fondamentale, cosa che prima non riuscivamo a fare. Finalmente anche perché diciamo che psicologicamente non faceva bene a nessuno, quindi siamo tutti più tranquilli, più sereni. Sì, anche nel fatto di accompagnare o smettere di servire prima la clientela perché possono avviarsi verso casa. Possiamo servire meglio, sicuramente dare di più e finalmente essere un po' rilassati anche noi. Riparte oggi anche tutta l'attività legata al mondo dei matrimoni. Resta però il nodo del Green Pass per accedere a questo tipo di manifestazioni, i banchetti di nozze. Ne ha parlato anche il Presidente della Regione Fedriga nel corso di un incontro in videoconferenza organizzato dalla Federmap, la federazione che rappresenta le imprese del settore del wedding. La Presidente di Federmap, Serena Ranieri, ha varato in una videoconferenza via Zoom la ripartenza del settore dei matrimoni. Sì, alla cerimonia civile o religiosa che sia, ma resta ancora un nodo, quello del Green Pass, al momento obbligatorio anche in zona bianca, ma su cui il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Fedriga ha chiesto l'UMI al Governo. Le linee guida sono state recepite anche dal Ministero della Salute con ordinanza propria. Penso che l'interrogativo che è ancora in vigore è quello sui Green Pass. Sui Green Pass, la conferenza ha chiesto dei chiarimenti al Ministero perché il Green Pass vuole sottolineare un provvedimento che non riguarda le Regioni, cioè non sta nelle nostre linee guida, ma sta in un decreto, oltretutto, di rango superiore e che quindi l'unica interpretazione la può fare chi ha emanato quel provvedimento che è il Governo stesso. Su questo il Ministero, ho avuto conferma proprio pochi minuti fa, sta lavorando e mi auguro che possa dare una risposta chiarificatrice nel più breve tempo possibile. In attesa di chiarimenti, che cosa significa avere il Green Pass? Una delle tre situazioni, tra cui l'ottenimento del pass vaccinale, l'ottenimento del certificato di immunità da Covid perché è già contratto, oppure un semplice tampone. Quindi le regole per il mondo del wedding? Mascherine, distanziamento, sanificazioni, pulizia dei bagni ai banchetti 20 volte al giorno, ma non solo. È possibile ballare? Sì. Anche qui si deve garantire la distanza interpersonale di un metro tra i non congiunti. Gli sposi possono ballare come possono anche fare il loro ballo perché sono congiunti. Logicamente, essendo chiuse le discoteche, è vietato un ballo in modalità discoteca. Il buffet è possibile, sì, deve essere servito dal personale, è possibile anche la modalità self-service purché vengano serviti dei monoporzioni confezionati e i confetti. I confetti, certo che possono esserci, confetti è un momento importantissimo nel matrimonio, ma devono essere in monodose o in confezioni chiuse. Perciò, mi dispiace, ma è vietata la classica confettata a buffet. Notizia importante sul fronte vaccini prima di vedere il bollettino Covid perché l'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l'autorizzazione all'uso del vaccino Pfizer per immunizzare dal Covid i giovani tra i 12 e i 15 anni. Di conseguenza, dal giorno 3, da giovedì, dal giorno 3 giugno, si potrebbe aprire anche a questa fascia per le vaccinazioni. Da giovedì, come sapete, si apre a tutti, quindi presumibilmente si aprirà non dai 16 ma dai 12 anni in su. Maggiori aggiornamenti naturalmente nelle prossime edizioni. Il bollettino regionale sul coronavirus che oggi dà, devo dire, delle buone notizie. 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 1477 i test in Friuli-Venezia-Giulia, nessun decesso, meno male, terapie intensive, 5 persone ricoverate, ricoveri in altri reparti 38 più 2 rispetto a ieri, nuovi guariti, sono 16 nelle ultime 24 ore. Sale invece a 37 il numero di migranti contagiati nella struttura d'accoglienza del Nazareno di Gorizia ed effettivamente l'attenzione ora si sposta su chi arriva da fuori regione come per esempio i migranti sulla rotta balcanica. Erano 29 i migranti contagiati dal Covid al Nazareno di Gorizia fino a qualche giorno fa. Oggi il numero è arrivato a 37 sui 150 ospiti totali. Sono quasi tutti asintomatici. Ma con questi numeri il focolaio comincia a preoccupare. Il presidente del consorzio che gestisce il centro di accoglienza, Mauro Perissini, ha spiegato come l'infezione si è iniziata due domeniche fa e come si è stato attivato il protocollo da seguire portando i primi contagiati nella struttura di Gabria attrezzata per le quarantene. Il numero di casi però in breve tempo ha subito un'impennata portando a 37 i contagi. Adesso il Nazareno è una struttura chiusa e anche gli ospiti risultati negativi dopo due settimane devono comunque rimanere all'interno. La polizia presidia l'area per garantire che tutto avvenga secondo i protocolli. Tutto questo in una cornice preoccupante. La rotta balcanica, come ogni fine primavera, è ripartita e il fenomeno di contagi portati da fuori è da tenere sotto stretto controllo. Solo ieri sono arrivati a Trieste 40 migranti, 36 quelli rintracciati oggi a Udine. Il tragico schianto in cui ha perso la vita sabato pomeriggio il 43enne triestino Leonardo Romano è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti sulla strada del Vallone che collega Trieste a Gorizia. Pericolosa in particolare per quanto riguarda le moto e il servizio. Di Laura Bucarella. Aspettava un figlio Leonardo Romano, il motociclista triestino di 43 anni morto nell'incidente di sabato pomeriggio lungo la strada del Vallone che conduce a Gorizia. A rivelare il particolare che aggiunge dolore alla tragedia è oggi il quotidiano Il Piccolo che intervista la compagna dell'uomo, la 36enne Miriam Malalan, al quarto mese di gravidanza. Cordoglio per la morte di Leonardo anche da parte dei colleghi. Il triestino lavorava all'Insiel da 2004 come tecnico informatico ed era impegnato in particolare sui siti della regione e del servizio sanitario. Tutti lo ricordano come un uomo pieno di vita, sportivo, amante del mare e del windsurf in particolare. Ma anche prudente con la sua moto che era una delle sue passioni. Purtroppo al momento non ci sono testimoni del tragico incidente in cui Leonardo ha perso la vita avvenuto all'altezza di Gabri a una frazione di Savogna di Sonzo in un tratto curvilineo del Vallone. Stando però ai rilievi della polizia sul posto, il centauro sarebbe stato in fase di sorpasso quando ha perso il controllo della moto schiantandosi contro il guardrail. L'incidente riporta purtroppo d'attualità la pericolosità di quella strada, soprattutto per i motociclisti. Per aumentare la sicurezza di molte strade e mitigare gli effetti di eventuali cadute di conducenti e passeggeri di motocicli, la regione aveva approvato alla fine del 2019 uno stanziamento di un milione di euro a favore di Friuli Venezia Giulia Strade per l'installazione di barriere salva motociclisti nei tratti stradali considerati più pericolosi. Un'iniziativa nata da una mozione del consigliere eleghista Slokar è approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore competente Pizzimenti che probabilmente le emergenze pandemiche hanno rallentato nell'applicazione pratica su strada. Ci spostiamo fuori provincia per una notizia di cronaca. Un maxi sequestro di 100 kg di cocaina allo stato puro per un valore di mercato di oltre 5 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Udine in un immobile abbandonato ad Aiello del Friuli. L'ingente quantità di droga è stata scoperta a seguito di una segnalazione ai pompieri per una sospetta fuga di gas in un'abitazione dismessa. A questi hanno rinvenuto numerose bombole di gas incustodite, tanniche di benzina e documentazione contabile abbandonata e hanno allertato la Guardia di Finanza che grazie a un cane antidroga ha scoperto la cocaina. Passiamo alla pagina politica. Invece del piano per eliminare le barriere architettoniche, il Comune pensa alla ruota panoramica. È duro l'attacco alla Giunta Comunale della Presidente della Sesta Circoscrizione, come Alessandra Richetti, candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Quello che sta dicendo il Comune di Trieste con questa giunta è che non mi interessa se c'è un problema di fruibilità. Non mi interessa. Io devo fare la ruota per i cricetti. La ruota che fa tanto arrabbiare Alessandra Richetti è quella panoramica lanciata dall'assessore Giorgio Rossi proprio da una trasmissione di Telequattro per creare in Portovecchio una sorta di prater viennese. Il disinteresse dell'attuale Giunta Comunale è invece rivolto, secondo la candidata a sindaco per i 5 Stelle, all'abbattimento delle barriere architettoniche. L'occasione per parlarne è il recente approdo in Sesta Circoscrizione, presieduta dalla stessa Richetti, di alcuni documenti relativi alle strategie comunali per la mobilità urbana. Tra questi il PEBA, che riguarda appunto le barriere e prevede un censimento delle zone più critiche di accesso agli edifici di pubblica utilità, quali scuole, poste, uffici, luoghi di culto. È stata la Regione, spiega Richetti, a muoversi nel 2020 creando particolari direttive per spingere i comuni a dotarsi di questo strumento. Avete presente come succede per gli alberi, che ci sono i numerini sopra gli alberi? Ecco, si deve fare la stessa cosa per i percorsi e andando a individuare quelle che sono le difficoltà per le persone che magari hanno altre abilità. Come rendere fruibili questi percorsi? Ecco, questo in quel documento proprio non lo abbiamo trovato. La candidata 5 Stelle porta poi l'esempio delle difficoltà che incontrano le persone diversamente abili anche quando i cantieri stradali vengono allestiti senza tenere conto delle loro esigenze. Allora, uno dei nostri argomenti principali di fruibilità è che dobbiamo avere il disability manager. Lo richiede il PEBA e il disability manager deve essere convocato ogni volta che c'è un cantiere. E' ancora politica in vista delle comunali. Abbiamo parlato di possibili alleanze con il centro-sinistra. Ieri a Sveglia Trieste con Riccardo La Terza, candidato a sindaco della civica indipendente Adesso Trieste, ricevendo questo tipo di risposta. Noi con Punto Franco abbiamo provato a parlare dei programmi, dei progetti delle persone. Lo facciamo in maniera trasversale. Traduco in qualche modo, ha detto perché no, alle alleanze potenziali e al ballottaggio con anche Adesso Trieste. Riccardo La Terza che dice? Che noi ci stiamo candidando per vincere le elezioni. Quindi per noi il punto non è soltanto testimoniare una posizione più o meno giusta che sia, ma andare al governo della città. Nessuna mezza misura per Adesso Trieste. Riccardo La Terza, candidato a sindaco della civica che guarda a sinistra, è stato molto chiaro ieri a Sveglia Trieste, tracciando anche gli obiettivi cardine che propone per la futura amministrazione. Perché ci sono dei problemi urgenti che la città deve affrontare dal punto di vista economico, come ne abbiamo parlato prima, sociale ma anche ambientale. Oggi magari abbiamo trattato un po' meno il tema dell'ambiente, ma anche quello è altrettanto urgente. E per restituire il potere alle persone, perché l'altra cosa della quale siamo convinti è che tutte queste cose molto difficili, che vanno fatte anche in tempo relativamente breve, si possono fare soltanto con il supporto delle persone. Niente sconti anche sul Porto Vecchio, un progetto rispetto al quale, secondo La Terza, la Tore Giunta non sta rispecchiando le reali esigenze di prospettiva della città. Si è parlato fin da subito, anche per esempio nel famoso studio di Ernest Young, che era stato commissionato da Cosolini negli ultimi mesi del suo mandato, si parlava anche lì della costruzione di fatto di un nuovo borgo della città, di un nuovo spazio urbano con prevalentemente case e uffici. Trieste non ha bisogno di questo perché ha 12.000 case sfitte e 1.800 negozi vuoti, ma per produzioni più piccole, più leggere, anche sperimentali, innovative, appunto legate all'ecosistema della ricerca che già esiste e opera in città, il Porto Vecchio in realtà è un luogo ideale. Perché? Perché è centrale, perché è meglio connesso rispetto alle classiche zone industriali al tessuto proprio della vita quotidiana della città, quindi si può generare anche quell'innovazione che si chiama tecnicamente informale, che non è quella che impari all'università, che impari in un centro di ricerca, ma è quella che si genera dal contatto quotidiano con le persone, con il mondo della cultura e via dicendo. Qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco anche con la pagina sportiva. Restate con noi. Ben trovati, ben trovati con la seconda parte del telegiornale di Telequattro. Andiamo a vedere queste immagini. Questa è la copertina del quaderno che sarà messa a disposizione di chi si vaccina il giorno 2 giugno al centro vaccinale di Muggia. Il titolo sarà Mi vaccino il 2 giugno a Festa della Repubblica e spero che, puntini puntini, frase che poi sarà completata dai vari pensieri dei vaccinati, come comunica l'assessore Muggiazano De Colle, nella speranza, dice, di avere dei pensieri buoni e di consegnarli nei giorni successivi al prefetto. Proseguiamo, proseguiamo con Trieste che torna sul National Geographic, che torna addirittura in copertina della prestigiosa rivista americana che dedica alla nostra città un lungo reportage che tocca anche i temi dello sviluppo del porto e degli investimenti stranieri. Il fascino di Trieste è nuovamente protagonista sulle pagine del National Geographic. Il nuovo dettagliato articolo del giornalista statunitense Robert Draper che frequenta la nostra città dal 1996 non si limita alla riscoperta delle bellezze che costituiscono le nostre attrazioni turistiche. Tra l'architettura sburgica dei palazzi e la moltitudine di edifici religiosi, la tradizione del caffè e la barcolana, con un cenno al curioso muro del Pedocin, l'articolo affronta anche i passaggi controversi della storia di Trieste, il suo essere terra di confine e le prospettive, anche economiche, legate in particolare allo sviluppo del porto. Non a caso il giornalista ne descrive la naturale profondità dei fondali come una virtù non particolarmente apprezzata dall'Italia fino a poco tempo fa. Incontrando al caffè San Marco, Zeno d'Agostino, Draper racconta un aneddoto curioso. Arrivato all'appuntamento con mezz'ora di ritardo, il presidente dell'autorità portuale, cercando delle tasche un biglietto da visita, confessa di averne solo dei cinesi. Il giornalista passa poi a raccontare l'accordo commerciale firmato nel 2019 con la Cina per la Belt and Road Initiative, annotando che ancora una volta il porto di Trieste, con la sua posizione, profondità, collegamenti ferroviari e status di parziale esenzione da dazzi doganali, è diventato l'oggetto del desiderio di una potenza straniera. Sull'argomento, Draper intervista anche Giulio Camber, direttamente nel suo studio, ricordando la sua campagna vigorosa contro l'adesione di Trieste all'iniziativa cinese, anche attraverso i poster affissi in città. Mi fa ridere sentire la gente dire che l'Italia e la Cina sono alleate, dice il senatore forzista. Non siamo al loro stesso livello. Numerosi gli altri incontri triestini, a cominciare da quello con il sindaco di piazza, del giornalista americano, che conclude con una definizione di Trieste, dei suoi abitanti, che sa un po' di luogo comune e che farà storcere il naso a più di qualcuno. Una città di persone dipendenti dal caffè e filosofi degli sgabelli da bar, che tende a non lavorare troppo. E su questo, insomma, avremo qualcosa da dire. Comunque, proseguiamo con questa immagine, devo dire, particolare, ripresa dalla terrazza di Telequattro. Si tratta di una chiatta di proprietà di Fincantieri e Cartubi, che sta trasferendo, attraverso l'utilizzo di due rimorchiatori, un mega yacht in consegna alla stessa Cartubi, all'interno di quelle aree, diciamo così, dell'arsenale. Vedete delle persone a bordo sulla chiatta ed è un tipo di trasporto che, peraltro, potrebbe fare scuola anche in futuro per il trasferimento di container da una parte all'altra del porto, come fossero dei micro feeder, delle micronavi che possono trasferire carichi. In questo caso è stata la volta di un mega yacht, vedete lì, proprio alle spalle dell'Ursus. Proseguiamo, proseguiamo con l'ITIS di Trieste, dove ripartono le visite dei parenti con la possibilità del contatto, ovvero dell'abbraccio, ai propri cari dopo tanto tempo. Ripartono le visite parenti con contatto all'ITIS di Trieste, quindi si può tornare, diciamo, quantomeno a stringersi la mano all'ITIS, tra ospiti e visitatori. Esatto, esatto. Questa è una cosa che mancava molto agli anziani. E mancava sì, maledizione. Per i nostri anziani all'interno è stata una cosa, l'aspetto più tragico di tutto questo anno abbondante, un anno, quattro mesi, cinque. Fino a ieri, praticamente, fino all'altra settimana, usavamo due modalità, la stanza delle abbracci che ormai tutti conoscono, oppure il cosiddetto plexigas, cioè una separazione fisica fra il parente che viene a trovare il suo caro e il nostro residente, in modo da evitare contatti e tutto quanto. C'è la possibilità di anche due persone, tra le quali anche un minore, ne potevano venire a trovare il proprio caro. Adesso, invece, con l'ordinanza dei primi di maggio del Ministero della Salute, attraverso la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità e seguendo alcune regole precise, tra le quali bisogna essere vaccinati o avere avuto il Covid, o comunque avere tutta una serie di caratteristiche particolari, uno entra dentro, sottoscrive questo patto di responsabilità con la mascherina FFP2, comunque disinfettandosi le mani sia all'ingresso che poi all'uscita, ci può essere il contatto. Ecco, questa forse è la grande novità che in altre zone della regione è già stata introdotta, ma noi per una serie di prudenze, di motivazioni un po' così, nostre proprio, abbiamo preferito aspettare un po' per lavorare bene. La direzione di Asugi ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste per l'ulteriore contributo pari a 55 mila euro per il sostegno all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, la copertura assicurativa del personale sanitario volontario impegnato nella somministrazione dei vaccini nei vari punti dislocati a Trieste e per il trasporto di anziani non autosufficienti verso gli hub vaccinali. E rientro. La Fondazione Sierra Trieste era infatti intervenuta già con un contributo per il varo della campagna vaccinale e in particolare si era attivata direttamente per mettere a disposizione di Asugi gli spazi del molo quarto dove inizio maggio è stato creato un centro vaccinale possibile grazie allo stanziamento di 110 mila euro per la copertura delle spese di affitto, allestimento, pulizia e sanificazione dei locali dall'apertura fino a settembre 2021. Passiamo allo Sport Air Basket con l'ufficialità dell'addio di Coach Dal Masson che vediamo direttamente dal sito internet della Palacanestro Trieste Allianz. Allianz Palacanestro Trieste saluta Coach Dal Masson, parole al miele da parte del Presidente Ghiacci dopo un rapporto che è durato tanti anni. Ora le strade si dividono tra Palacanestro Trieste e Coach Dal Masson. In arrivo Franco Ciani che era il vice dello stesso Coach Dal Masson. Ne parleremo stasera con il Presidente Ghiacci alle 21.05 al Caffè dello Sport. Questa è la scheda che fa il punto della situazione. Si chiude l'era Dal Masson a cui va tributato il giusto maggio per un percorso che resterà nella storia del basket triestino e si apre quella di Franco Ciani vice di lusso in questa stagione considerati i 30 anni di carriera e le tante formazioni allenate. In attesa di sapere dal Presidente Mario Ghiacci come e quando partirà il percorso del Coach Friuliano da poco sessantenne proviamo a ipotizzare come potrebbe prendere forma la squadra. Si ripartirà presumibilmente dal terzetto Fernandes Grazulis Delia rispettivamente play, ala e centro. Il futuro dell'obito a Trieste è sempre più la sua città in Italia dove sono nati entrambi i figli è scritto nero su bianco da contratto leader dell'attuale progetto tecnico e ad occhio pure di quello futuro. Poi Grazulis scommessa vinta passato dalla 2 alla 1 in grande scioltezza e collante del gruppo nell'ultima stagione. La sua permanenza è una chiave di volta. Dunque Delia l'argentino si è dimostrato grande professionista ha legato tantissimo con il connazionale Fernandes dentro e fuori dal campo diventando un chiaro riferimento sotto le plance. Il nodo e la questione economica gli attuali 10.000 al mese sono parecchi la trattativa è in corso. Poi lo zoccolo duro italiano la grande speranza è quella di tornare a vedere in campo Daniele Cavaliero per un'ultima stagione davanti al suo pubblico. I rumors sembrano positivi ma nulla ancora chiaro mentre da Ross e Coronica sono partite sulle quali filtra ben poco. Da contratto ci sarebbe la Quintana ancora legata a Trieste ma da più parti si rincorrono voci di un addio dopo una stagione non convincente. Quasi impossibile trattenere invece la rivelazione dell'anno Davide Alviti su di lui c'è Brescia da tempo con un ricco pluriennale pronto ma pure Venezia e Sassari. Dalle scelte di coach e società su secondo play e ala titolare si capirà molto di più del futuro gruppo soprattutto perché sarà chiaro dove si vorrà investire sul fronte stranieri. A proposito Doyle ed Henry difficilmente li rivedremo anche se su Henry più di qualcuno rimane col punto di domanda sul reale valore. Discorso diverso per Apson che ha prodotto una buona stagione ma molto dipenderà dalla conferma o meno di Delia che al suo fianco avrebbe bisogno di un lungo della maggior potenza fisica ed esplosività. All'orizzonte c'è il mare magnum del mercato con uomini come Saunders della Fortitudo osservato speciale e sogni a stelle strisce vedi Willis di Brindisi e Epp di Sassari. Il tutto però è condizionato a due domande chiave quale sarà il budget per la prossima stagione e quali le intenzioni di Allianz per il futuro? Bene, tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale vi rimando domani mattina a Sveglia Trieste ci sarà anche il nostro direttore Luigi Bacialli dalle 8 alle 8 e mezza Buona serata a Sveglia Trieste